Ciao a tutti, uomo giusto è così che il Vangelo di Matteo ricorda la presenza di San Giuseppe, lui che ha custodito il figlio di Dio e ha fatto suo il figlio di Dio, portando sempre alla sua casa, alla sua famiglia, insieme a Maria Santissima, la Sacra Famiglia di Nazareth. In questo 19 marzo vogliamo celebrare la festa del nostro patrono qui nella parrocchia di San Giuseppe a Livorno, con la celebrazione della Santa Messa il 18 marzo alle ore 9, alle ore 11 e alle 16.30. Facciamo il Cenacolo allo Spirito Santo con l'esposizione al Santissimo Sacramento, chiedendo su di noi per l'intercessione del Castissimo Cuore di San Giuseppe la grazia e il rinnovo nello Spirito Santo di Dio. La Messa che viene celebrata nella domenica alle 18 avrà come Presidente della celebrazione Padre Antonio Vellotto, che viene dalla Diocese di San Minato e che ormai è diventato nostro fratello in Cristo Gesù, in comunione con la casa di San Giuseppe. E nella domenica, subito dopo la Messa, dalle ore 18 alle 19.15, facciamo la processione girando per le vie della nostra parrocchia, proclamando la grazia di vivere sotto la intercessione del nostro Patrono San Giuseppe. Il 19 marzo, lunedì, nel giorno del Papà, noi saremo qui a lodare e glorificare il Signore attraverso la intercessione di San Giuseppe, con la Chiesa aperta tutti i giorni, la Messa alle ore 10, la mattina dedicata a tutti i Papà, lodando e ringraziando il Signore per la testimonianza viva di San Giuseppe. E la sera, alle ore 16, abbiamo l'adorazione al Santissimo Sacramento, la Santa Messa alle ore di sotto, lodando e ringraziando il Signore per la testimonianza viva del Castissimo e giusto San Giuseppe. Siamo invitati a celebrare insieme questo momento di festa. Che il Signore vi benedichi e vi protegga per le intercessioni del nostro giusto e santo Giuseppe di Nazareth. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.